Io parlerò su questo tema, respirare a due polmoni e sacred heart. L'espressione parlerò, non userò immagini perché oltre al fatto che sono vecchio, nel senso più usare tanto le immagini e l'insegnamento, però è anche il fatto che preferisco usare in genere la parola. L'espressione respirare a due polmoni rinvia ad una delle funzioni più necessarie e più comuni dell'esistenza umana e ne esprime da piena manifestazione. La respirazione piena, infatti, deriva dalla buona funzionalità dei due polmoni. Ogni forma di lesione su questo piano diminuisce la capacità respiratoria e di conseguenza l'ossigenazione necessaria all'esplicarsi della vita umana. Tuttavia si tratta chiaramente di una funzione biologica, importantissima quanto si vuole, ma pur sempre biologica. Qualcuno potrebbe con qualche fondamento osservare, ma quale significato può avere questa espressione a due polmoni, respirare due polmoni, in un contesto come quello della sacred art, dell'arte sacra. Ovviamente è più che opportuno che gli artisti abbiano una buona respirazione con abbe due polmoni. Tuttavia non si può dire che questa attività sia una sacred art o abbia rilievo significativo in sé per la sacred art. In quanto tale bisogna chiedersi che senso dunque un'espressione come respirare due polmoni può avere per la sacred art. Si può rispondere a questa domanda solo andando oltre il senso biologico dell'espressione, guardando a quello che si può chiamare il suo senso metaforico, un senso che è preciso e che a un certo momento si è sviluppato nell'universo culturale cristiano e solo in quello cristiano. È quello che dobbiamo dunque cercare di cogliere in qualche modo. Come sempre, almeno questa è la mia convinzione, il miglior modo per cogliere il sorgere dei nuovi significati e linguaggi è quello di seguirne il sorgere e il divenire storico. Ebbene, probabilmente la prima traccia dell'uso metaforico di questa espressione nell'universo cristiano, che è l'unico che l'ha usata, è offerta dal poeta russo Vyacheslav Ivanovich Ivanov, che è vissuto tra il 1866 e il 1949, il quale appunto desiderava appartenere alla pienezza della Chiesa, aderendo, e per questo aderì alla Chiesa cattolica nel 1926 senza tuttavia abbandonare le ricchezze spirituali della Chiesa ortodossa. Egli affermava, infatti, di non poter più respirare con un polmone solo. Questa era la sua espressione. È un'espressione che lui usa in una sua celebre lettera al critico francese Charles de Beau nel 1930. Questa espressione è stata ripresa poi da Papa Giovanni Paolo II in un suo discorso nel 1983, che gli fece un'occasione proprio in cui venne ricordato Ivanov. Sentite come ne parla Giovanni Paolo II nel suo discorso del 1988 e di questa esperienza di Ivanov. Confessando nella Basilica di San Pietro di Roma, il 17 marzo 1926, il credo cattolico, Ivanov aveva coscienza, come scrisse a Charles de Beau, di sentirsi per la prima volta ortodosso nella pienezza dell'accezione di questa parola, in pieno possesso del tesoro sacro che era suo dal battesimo e il cui godimento non era stato da anni libero da un sentimento di malessere, divenuto a poco a poco sofferenza, per essere staccato dall'altra metà di questo tesoro vivo di santità e di grazia, la Chiesa Cattolica, e di respirare, per così dire, come un tisico, con un solo polmone. Questa espressione di Ivanov è molto precisa, è molto chiaro e mette in luce come appunto la sua esperienza personale lo conduce a desiderare l'unione con la Chiesa Cattolica per tirare fuori tutta la potenza spirituale del suo battesimo ortodosso, perché è proprio così che la vive. Si sente integralmente, più pienamente, si potrebbe dire, ortodosso, esplicante la ricchezza della sua ortodossia, diventando cattolico, ma non perché il cattolicesimo sia la pienezza nel senso gerarchico, ma perché anche i beni spirituali del cattolicesimo sono necessari per esprimere la ricchezza della spiritualità e della salvezza della forma ortodossa. Di per sé Ivanov non usa letteralmente l'espressione respirare due polmoni, anche se è chiaro che egli, diventando cattolico, sente di recuperare l'uso di tutti e due polmoni. Il contenuto concettuale è però chiaramente orientato verso la nozione dei due polmoni. Ivanov fa un'esperienza eminentemente sua. Di fatto si può dire che questo testo della lettera al critico Richard Dubois non fu molto conosciuto, è rimasto abbastanza limitato come conoscenza e non ha avuto un impatto immediato. È soltanto vent'anni dopo che l'espressione torna fuori, perché la cosa curiosa è che l'espressione a due polmoni, che con Giovanni Paolo II, lo vedremo, è diventata una specie di slogan fondamentale nella vita della Chiesa, non praticamente fino agli anni cinquanta non è stato mai usato nel secolo scorso e tra l'altro ora, questo lo accenno per accident, ora è un pochino meno usata anche a livello teologico, ma per altri motivi. Perché appunto Ivanov offre un'esperienza eminentemente personale. Circa vent'anni dopo c'è questa ripresa e la creazione, in fondo, del linguaggio dei due polmoni, del respirare dei due polmoni, da parte di un teologo, un grande teologo francese che si chiamava il padre Yves Congar, che è vissuto dal 1904 al 1995. Congar fece una conferenza che poi ha pubblicato più tardi, nel 1964, in pieno concilio, nel 1952, una conferenza sul tema «La persona della libertà umane nell'antropologia orientale». La conferenza terminava così. «Rimane il fatto che la tradizione orientale ci richiama alcune concezioni religiose e mistiche molto profonde. Per tutto un aspetto di se stesso, il pensiero teologico vivo del cattolicesimo contemporaneo consiste nel rientrare in possesso attivo di questi valori, nel superare non soltanto il razionalismo un po' naturalista della teologia barocca, ma anche i preliminari medievali di questo razionalismo e di questo naturalismo. In breve, il pensiero troppo analitico e dialettico che si è sviluppato a partire dal XII secolo, cioè dalla scolastica. Lui non dice scolastica, ma si dice la scolastica. Non è che tutto sia in esso senza valore, ma non è sempre adeguato alla pienezza della tradizione cattolica. Non è invano che fin dalle origini il mondo cristiano ha comportato un Oriente e un Occidente. C'è in questo come un tratto imprescrittibile la sua figura provvidenziale. La teologia non è pienamente cattolica che, quando, come un organismo sano, respira profondamente e si ossigena attraverso i suoi due polmoni, l'Oriente e l'Occidente. Queste parole sono un po' l'atto di nascita della visione del respirare a due polmoni nel senso formalmente teologico e, come si vede, è intimamente legata, questa visione, alla storia dell'Occidente, cioè alla visione della frattura che c'è stata con l'introduzione della teologia o scienzia nel Medioevo con la scolastica, perché chiunque conosce un po' la storia culturale dell'Europa, incluso l'Oriente europeo, sa che quello è il grande momento della frattura teologico-spirituale tra Oriente e Occidente, nel grande confronto fra la scolastica medievale, tomista poi in modo particolare, e il pensiero di Gregorio Palamas. Dunque c'è, nella prospettiva di Congar, l'idea che c'è la divaricazione che inizia e che deve essere superata, perché è un impoverimento, cioè la pienezza del recupero dei due polmoni è indispensabile, non soltanto per avere la pienezza dei doni spirituali, che è una cosa sulla quale lui punta meno in questo momento, ma per avere la pienezza teologica, in un certo senso, e poi sottolinea come attraverso questo recupero dell'Oriente anche l'Occidente può dar vita a una teologia più adeguata, più ricca, perché Congar vive in quegli anni una crisi della teologia cattolica, che si trovava ad essere un po' preda del proprio razionalismo. Ed è interessante che lui negli anni 50 inverte un certo linguaggio. Immaginatevi che prima, il motivo per cui la teologia orientale e la spiritualità orientale erano considerati inferiori e praticamente irrilevanti, era perché erano poco scientifici. Scientifico il linguaggio, privo di scienze. Io ho avuto modo, per i miei studi abbastanza vasti, di vedere tante recensioni ai testi di teologia e di spiritualità dell'Oriente da parte occidentale, è costante il riferimento, poco scientifico, poco scientifico, non c'è l'organizzazione scientifica del sapere, non c'è la sistematicità, non c'è l'ordine. Con Congar cambia questa prospettiva e diventa piuttosto il contrario. La teologia occidentale ha bisogno dei caratteri della teologia orientale, più radicata nella spiritualità, nella esperienza viva della salvezza e nella esperienza liturgica. Congar poi svilupperà molto questo aspetto, lo svilupperà in modo molto serio e porterà avanti anche varie prospettive, addirittura arriva anche a cose un po' eccessive dal mio punto di vista, ma non mi ci fermo. Quello che voglio sottolineare è che lui ci vede nel rapporto fra l'Oriente occidente un caso generale del fatto che la realtà è strutturata unidualmente, un po' a tutti i livelli, cerca di dare anche un'esplicazione di questo, e lo mette in rapporto addirittura con la dualità delle nature in Cristo Signore, la natura umana e la natura divina. Al di là di questi accenni di Congar, però Congar dice una cosa che poi rimane, l'idea della complementarietà dei due polmoni. Lui l'intende non come complementarietà fatta attraverso la sovrapposizione o l'accostamento, no, l'intende nel senso in cui si parla di complementarietà da parte di Niels Bohr, cioè per quanto riguarda la spiegazione, diciamo così, delle particelle del movimento, delle particelle elementari della materia, voi sapete che Niels Bohr porta avanti l'idea che ci siano due modalità di interpretazione delle particelle di materia e del movimento, cioè la teoria corpuscolare e la teoria ondulatoria della materia. E sono due teorie che dicono la stessa realtà. La complementarietà quindi non significa mettere insieme, fare una composizione, ma usare due modalità di approccio di interpretazione della realtà per dire la stessa realtà. E nella diversità del dire quella realtà si ha una maggiore, più piena comprensione della realtà, una possibilità di, in qualche modo, di sperimentare più adeguatamente la realtà. Congar si ispira a questo. E direi che la nozione di complementarietà, quella che poi teologicamente prevale, è questa nel rapporto fra l'aliente e l'occidente, non l'idea di mettere accanto, di fare due sentieri che si incrociano o semplicemente di mettere insieme aspetti tecnici o alcune piccole teorie teologiche o modalità di esplicazione dei dogmi. La prospettiva indicata da Congar è un po' quella che è diventata dominante. Questa peculiare idea della complementarietà delle teologie si è ben congiunta con l'idea che Oriente e Occidente, solo se insieme dicono la pienezza della verità, mantenendo il contenuto della loro peculiarità. Due polmoni, dunque, un solo respiro della verità ricca, come scriverà molti anni più tardi il padre Raniero Cantanamessa, Due polmoni, un unico respiro. Questa è l'idea, un unico respiro. Ivano Fecongar sono certamente sullo sfondo del pensiero e dell'azione di Giovanni Paolo II, che è estremamente importante dal punto di vista dell'oggetto della mia relazione odierna. Perché il primo papa, un slavo della storia, Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, cita Ivanoff, lo richiama, e sottolinea come egli si senta molto in consonanza con questa prospettiva di Ivanoff. Lo dice nel discorso che ho citato anche in precedenza. Lui coglie l'occasione anche per dire che non si può respirare come cristiani, direi di più come cattolici, con un solo polmone. Bisogna avere due polmoni, quello orientale e quello occidentale. Questo è una autocitazione che Giovanni Paolo II fa nel discorso del 1983. si autoscita, cita un suo discorso del 1980, proprio molto in prossimità degli inizi del suo lavoro. Di fatto, Giovanni Paolo II riprende fortemente l'idea della Chiesa a due polmoni, orientale e occidentale, e sullo spondo ha Ivanoff e, in notevole misura, anche Congar e tende a interpretare tutta la storia europea come manifestazione e sviluppo dei due polmoni, delle due linee culturali. Non abbiamo più di tanto tempo, però dice così, in un suo famoso discorso del 1988, l'Europa è cristiana, nelle sue stesse radici, le due forme della grande tradizione della Chiesa, l'occidentale e l'orientale, le due forme di cultura, si integrano reciprocamente come i due polmoni di un solo organismo e insiste l'unica linfa interiore che si articola in questa dualità delle esperienze delle forme culturali europee, oriente e occidente. È il disegno di Giovanni Paolo II. L'Europa deve includere l'Oriente, naturalmente. Due polmoni e un solo organismo. Giovanni Paolo II ha operato in tutti i modi perché la Chiesa recuperasse la propria unidualità a livello spirituale, teologico, canonico, anzi a livello di autocoscienza ecclesiale. lo ha fatto sul piano personale. Una cosa che non è stata detta, io insegno anche al Pontificio del Stato Orientale da molti anni e mi ricordo che Giovanni Paolo II chiamava regolarmente un certo numero di professori del Pontificio del Stato Orientale a colloquio con lui per meglio conoscere l'Oriente perché era un suo disegno preciso. Realizzare una Chiesa a due polmoni, Oriente e Occidente, e il suo ispiratore principale in questo ambito era sicuramente il padre Spidilic, grande personaggio. Li chiamava più volte. Il papa Giovanni Paolo II ha portato a compimento il progetto del codice delle Chiese Orientali Cattoliche come espressione di questo secondo polmone all'interno della Chiesa Cattolica, già presente e vivo nella Chiesa Cattolica e ha cercato in tutti i modi, anche sul piano si potrebbe dire della politica ecumenica di realizzare questo, il suo grande desiderio e sogno sarebbe stato quello di visitare tutte le grandi capitali ortodosse, l'ha fatto con tutte tranne qualche mosca e il suo grande desiderio sarebbe stato a fare nel 2000, in un anno di riconciliazione fruttodossia e cattolicesimo. Era la sua idea. E poi la grande enciclica Autonun Sint, nel quale il papa sottolinea questa prospettiva, questa lettura dell'Europa e delle Chiese e delle culture in termini di respiro a due polmoni. Io non mi femmo alla legge dei testi appunto perché il tempo passa e poi... Però quello che voglio dirvi è che Giovanni Paolo II è di grande interesse anche per un motivo, cioè perché ci consente di tornare alla domanda iniziale. Quale domanda iniziale? E cioè che rapporto ci può essere tra i due polmoni e la serga d'arte? Che vuol dire respirare due polmoni e la serga d'arte? Bisogna dire che Giovanni Paolo II in vari testi valorizza la cultura delle icone, la valorizza anche molto, però vi dico subito che dal mio punto di vista la valorizzazione che gli offre, io qui porto i testi, ma qualcuno forse dirà, ma quello che non mi va tanto di Giovanni Paolo II è che in fondo alla fine lui recepisce un'idea delle icone anche in questo senso espressione massima della tradizione orientale nell'arte e come in uno senso quasi estetizzante alla fine. Immaginatevi che nella lettera degli artisti c'è il pretesto scritto da Giovanni Paolo II scritto in ogni caso pubblicato da Giovanni Paolo II rivolto agli artisti praticamente quello che dice sulle icone è di valore eminentemente estetizzante devono essere nella chiesa nelle chiese scure negli usci è lì che principalmente le icone danno il loro contributo maggiore poi le icone altrove in altri discorsi aiutano l'ascensione spirituale le icone Giovanni Paolo II da questo punto di vista non coglieva alcuni aspetti fondamentali della realtà delle icone le icone non hanno un senso spirituale hanno un senso ontologico innanzitutto hanno un senso ontologico nelle icone non c'è uno spunto per fare un cammino spirituale personale non c'è una realtà che aiuta a conoscere meglio i gradini dell'ascesa spirituale nelle icone c'è l'incontro reale l'accesso reale c'è il rapporto nelle icone è ontologico alla cosa si dice si attolinea anche in vari testi Giovanni Paolo II il carattere quasi sacramentale delle icone però questo carattere sacramentale viene letto un po' come alla latina come occasione di grazia mentre va letto nella modalità orientale decisamente orientale il sacramento come incontro come trasformazione ontologica come assunzione Giovanni Paolo II su questo piano del dire non ha fatto dire molto però stranamente Giovanni Paolo II dal mio punto di vista ha fatto una cosa straordinaria il rapporto alla arte sacra perché perché il rapporto all'arte sacra lui ha fatto una cosa straordinaria che è la committenza lui ha dato mandato di fare un'opera a due polmoni un mandato esplicito e non da poco perché ha dato mandato di fare la cappella della Redentorismate in Vaticano come cappella a due polmoni c'è stata una precisa committenza artistica forse ricorderete tutta la questione il 10 novembre 1996 il collegio dei cardinali fece un dono in denaro al papa Giovanni Paolo II nell'occasione del suo cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale ed il papa accettando il dono lo destinò subito ai lavori di ristrutturazione e decorazione della cappella Redentorismate nel palazzo apostolico dicendo essa questo lavoro diventerà così un segno dell'unione di tutte le chiese che voi rappresentate con la sede di Pietro rivestirà inoltre un particolare valore ecumenico e costituirà una significativa presenza della tradizione orientale in Vaticano cioè subito dà una committenza precisa una finalità precisa a questi soldi e vi giunge subito a una committenza precisa la committenza che viene data viene data al centro Aletti come mai il centro Aletti perché era il centro che era orientato in quella direzione di ricerca e di lavoro ed era il centro legatissimo a padre Spiedrich io sono stato tante volte lì perché per i motivi sono stato tante volte abbiamo parlato tante volte e era facile vedere padre Spiedrich era il padre spirituale del centro il grande padre spirituale del centro padre Spiedrich era di grandissimo valore ebbene padre Spiedrich aveva fatto nella cappella l'edentorismata aveva fatto esercizi al papa e alla curia romana alcuni anni prima esercizi in cui aveva parlato della chiesa a due polmoni dell'espire a due polmoni la committenza del papa va verso i centroletti i centroletti di fatto è incaricato subito di questo è incaricato di fare un'opera a due polmoni ed è questo il punto l'opera a due polmoni l'arte a due polmoni il respiro artistico a due polmoni che viene in qualche modo richiesto dalla stessa committenza in questo caso diventa possibile e adeguatamente possibile perché il centroletti non è semplicemente un centro tecnico o di storia dell'arte ma è un centro anche di convivenza è anche un centro di condivisione spirituale è una bottega in un certo senso un atelier una bottega che assomiglia per certi aspetti anche a un monastero medievale lo diceva Mariano Apa quindi il Papa Giovanni Paolo II fa una cosa notevolissima la committenza l'opera dà l'opera da fare e la dà a un soggetto che sperimenta i due polmoni vivendo dell'unità vitale la realtà spirituale liturgica culturale dei due polmoni non voglio prendermi molto tempo chi poi leggerlo non ho scritto molto di più naturalmente però il senso di tutto il mio discorso è questo è proprio questo ciò che Giovanni Paolo II ha fatto è la modalità giusta secondo me di pensare al rapporto tra respirare a due polmoni e arte sacra perché l'arte sacra può essere fatta come respirante a due polmoni soltanto se è fatta da artisti respiranti a due polmoni persone che vivono l'esperienza spirituale dei due polmoni l'esperienza liturgica cioè che hanno interiormente la irrorazione di queste fonti spirituali e ognuno dei quali trova la sua unità propria perché ogni unità è diversa naturalmente e poi trova anche il proprio elemento di ispirazione e creatività che è legato alla sua configurazione personale all'azione dello spirito e a chissà quante altre cose ma certamente è una realtà eminentemente personale che prende corpo all'interno di questa esperienza globale piena e integrale di tutti i doni dello spirito che attraverso i due polmoni sono dati all'uomo questo questo è il senso proprio e soltanto in questo modo si potrà parlare di un'arte sacra a due polmoni non si tratta di soprapporre tecniche conoscenze utili indispensabili specialmente nell'arte indispensabile però si tratta di configurare di dare forma dare forma artistica a elementi strutture idee concetti che nascono dall'unità dall'unità del vissuto a due polmoni e dunque questo significa anche che non è possibile un'arte a due polmoni se non c'è anche un percorso spirituale a due polmoni soltanto in questo modo questo potrà essere realizzato pienamente e questo è quello il messaggio principale che ci viene da questo punto di vista da Giovanni Parlo II ed è in fondo l'ultimo messaggio che ci viene un po' dal Magisterio della Chiesa perché dopo Giovanni Parlo II pochi hanno continuato a parlare di due polmoni ma mi fermo qui grazie dell'ascolto grazie